Ieri dicevo che il potere mediatico oggi in Italia è tale da nascondere la realtà, ma da molti anni, non da giorni. Ebbene, le classi sociali sono sempre più povere, la gente sempre più disaffezionata alla lotta politica, la classe media è stata falcetta e il livello di omologazione del reddito e del correlato pensiero prosegue verso il basso. Mi fermerei qua, perché penso che sia già sufficiente. Allora, quando in uno Stato libero e democratico, come era quello dell'Italia negli anni Ottanta, progressivamente, nell'arco degli ultimi trent'anni, in modo surrettizio e lento, si comincia ad inserire la censura giornalistica, la censura degli organi di stampa, la censura degli organi televisivi. Ebbene, in quel modo, piano piano, si instillano nuove idee nella gente. Per esempio, il fatto che entreremo in Europa e vivremo lavorando un giorno in meno e guadagnando un giorno in più. Non è stato vero, perché oggi abbiamo molti più disoccupati e molti più poveri. Allora, le classi sociali, la verità, è che sono sempre più poveri. Il numero di poveri da quando abbiamo iniziato l'austerity a metà degli anni 2000, diciamo 2007, se volete, 2007-2008, a essere generosi. Ma in realtà noi l'austerity l'abbiamo sempre fatta. È dal 1991, signori. Sono trent'anni che noi facciamo avanzo primario, che vuol dire più tasse e meno spesa pubblica. Trent'anni. E dopo trent'anni noi ascoltiamo ancora come un greggio di pecore, noi ascoltiamo i telegiornali, grandi giornalisti che in materia di economia ci dicono che abbiamo sprechi, spesa pubblica, Italia sprecona, ha vissuto al di sopra delle possibilità, taglia le pensioni, taglia la sanità. Ecco, il dramma è che la classe media è stata falcidiata e il vero problema è che il livello di omologazione del reddito segue il livello di omologazione del pensiero. Lo ripeto, nella classe media italiana il livello di omologazione del reddito segue il livello di omologazione del pensiero ed entrambi vanno verso il basso. Questo è il dramma di questa decada, signori. Lo ripeto per la terza volta, il reddito segue la mente. Questo è un concetto di economia umanistica.